Stiamo parlando di un'attesa ormai ultradecennale perché il progetto esecutivo addirittura approvato anche dal Genocivile è del 1982. Oggi siamo in epoca completamente diversa, non parliamo di copertura noi del torrente annunziato, parliamo di completamento perché per larghe parte il torrente annunziato è stato già coperto. Non esistono motivi ostativi al suo completamento perché abbiamo portato qui in commissione stamattina le circolari dell'assessorato, leggi e compagnia bella dal punto di vista ambientale e naturalistico. Quindi si tratta soltanto di un'assenza di volontà di perseguire questo obiettivo. Non si comprende perché l'annunziata che era prevista fra gli otto torrenti urbani cittadini che dovevano essere completati già nel 1982 è stato tralasciato. Oggi qui in commissione abbiamo illustrato la posizione che questo comitato di cittadini che abbiamo fatto l'anno scorso per riprendere l'argomento vuole portare avanti. Oggi qui bisogna che l'amministrazione comunale e il Consiglio comunale, ecco perché ci siamo rivolti anche al Consiglio comunale, decidano quali sono le priorità per questa città e di reperire il finanziamento adeguato e necessario al completamento di quest'opera.